buongiorno ben trovati da pietra liguri siamo in compagnia di stefano caldana che proprietario del gruppo caldano hotel buongiorno buongiorno a tutti allora che estate si presenta quest'anno calda divertente senza senza un goccio di pioggia è molto è molto assolato ecco qui siamo alle nostre spalle c'è una bella spiaggia che quella dell'hotel villa marina giusto giusto ecco è una spiaggia anche aperta al pubblico soltanto per gli ospiti degli hotel aperta anche al pubblico previa prenotazione naturalmente ecco che capienza acqua sta spiaggia la pia la capienza intorno alle 80 100 persone 80 100 persone i clienti da dove arrivano chi sono principalmente è principalmente sono vengono da piemonte dalla lombardia il classico che abbiamo qua e liguria soprattutto italiani sì sì assolutamente ecco per quanto invece riguarda l'utenza degli hotel ci sono stranieri stranieri principalmente nei periodi invernali primaveri le autunnali ed estate siamo sempre la nostra clientiera principalmente italiana ecco con i fatti che sono che stanno venendo ai confini dell'europa parliamo della guerra tra russia e ucraina hanno diminuito l'afflusso dei turisti stranieri qui in liguria e soprattutto a pietra ligure oppure non sentite questa mancanza di primo e primo a chito abbiamo avuto sì un leggero calo poi dopo con l'andamento del delle delle di quello che sta succedendo siamo tornati più o meno a normalità benissimo allora ricordiamo tre hotel del gruppo caldana che sono l'hotel villa marina il nuovo hotel bristol e il hotel corallo giusto vogliamo dare un indirizzo internet per poter diciamo vederli e poter eventualmente prenotare allora il nostro sito internet è www.hcaldana.com benissimo allora salutiamo stefano caldana qui da pietra ligure e buon'estate ciao a tutti ragazzi ci vediamo